Benvenuti cari ascoltatori di Radio Puginon Air. Diciamo tante notizie ogni giorno su varissimi temi, sempre più vari. E non potevo non parlare di Giorgia Meloni che balla la pizzica al G7. Un argomento davvero che non riuscivo a trattenere solo per me. E non perché mi entusiasmi particolarmente la cosa ma perché ha condiviso sui propri social un riepilogo naturalmente positivo dal suo punto di vista di questo summit. E nel post come video c'era proprio qualche secondo direi che balla la pizzica a una serata evento insieme agli altri leader. Nello stesso tempo mi è venuto in mente anche il video che abbiamo visionato dove Ellie Schlein durante il Pride su un carro vicino ad Annalisa che balla invece su un altro tipo di musica, una musica pop. La differenza è che la Meloni ha scelto di ballare la pizzica e probabilmente era preparata in questo ballo. Non so se si è preparata apposta, ha scelto apposta quel gruppo, si è fatto tutto lei, si era tutto preparato. Oppure, oppure semplicemente si è trovata in quella situazione e sapeva, conosceva già dei passi di danza. Fatto sta che la Schlein si è trovata su quel carro in quel momento e ha ballato la musica che in quel momento veniva trasmessa durante il Pride, durante il corteo, mentre la Meloni ha ballato una pizzica che probabilmente, forse, chissà, era tutta una messa in scena preparata, per carità. Non sembra ballare neanche male, io non sarei capace, per cui, fatto sta che ci sono per il momento due leader che si contendono il potere dopo queste elezioni europee 2024 e ora hanno iniziato a farlo a passi di danza. Cominciamo con Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio Italiano, che ha sorpreso tutti ballando la pizzica al G7. Il G7, come sappiamo, è un summit internazionale che riunisce i leader delle maggiori economie del mondo, molto discusse per discutere di questioni globali cruciali come il cambiamento climatico, la sicurezza energetica e le tensioni geopolitiche. È un contesto di potere ed esclusività, lontano dalle preoccupazioni quotidiane delle persone comuni. La scelta della Meloni di ballare la pizzica, una danza tradizionale del sud Italia, in questo contesto elitario ha suscitato molte reazioni. La pizzica è simbolo di autenticità e tradizione, rappresenta le radici culturali del nostro paese. Tuttavia portare questa danza in un contesto come il G7 può sembrare un tentativo di umanizzare la propria immagine o di avvicinarsi alle radici culturali italiane o semplicemente lì era ospite il summit e dunque è stato valorizzato, e questo è bellissimo, una danza così popolare, una musica, una pizzica così straordinaria per qualsiasi musicista. Per cui tutto questo è positivo. Nello stesso tempo possiamo notare che è avvenuto in un contesto che dalle immagini che abbiamo potuto vedere è sempre molto più informale e dalle notizie che sappiamo storicamente sui leader lì presenti insomma non così vicino a quel popolo a quel popolo appunto che invece è un popolo che ci ha messo secoli per ottenere ad esempio la pace e non vorrebbe mai che per scelte assurde di questi personaggi si arrivasse ad una terza guerra mondiale che rappresenterebbe la fine non solo delle tradizioni popolari della pizzica ma anche probabilmente di tutti noi. Dunque una mossa da parte della Meloni per guadagnare simpatia oppure semplicemente una donna che nel momento in cui non lavora come poteva essere anche un uomo si lascia andare ad un momento di gioia, di danza di sfogo, di divertimento per cui niente di strano, ripeto, ma sono riflessioni che facciamo anche per stuzzicare un po' il dibattito un dibattito che invece è molto acceso al di là di temi così leggeri come la musica o la danza Passiamo ad Ellie Schlein la leader del Partito Democratico dunque ormai dopo queste elezioni la sua diretta competitor che ha partecipato al Roma Pride 2024 durante l'evento la Schlein si è scatenata ballando a ritmo di musica pop tra le canzoni di Paola e Chiara Laura Pausini Elodi e Annalisa che era lì sul carro insieme a lei il Pride è una celebrazione invece dei diritti e delle diversità un evento che unisce persone di tutte le provenienze orientamenti per promuovere l'uguaglianza sociale e i diritti LGBTQIA+. E dobbiamo anche ricordare un po' la differenza almeno che ci arriva visivamente tra questi due eventi di cui parliamo il G7 un evento esclusivo per pochi per i più ricchi diciamo che rappresenta il potere dunque l'esclusività mentre il Pride l'inclusività e l'uguaglianza e sarebbe stato forse più giusto visto l'estremismo di destra della Meloni populista e l'attivismo di sinistra della Schlein vicino ai diritti del popolo che la Meloni ballasse un po' di quel pop a volte anche molto leggero superfluo che si ascolta ma però che mette allegria che fa muovere che fa ballare eccetera dunque un popolo che non è naturalmente quello che ascolta principalmente magari la musica d'autore non so di Andrè Gaber insomma un popolo forse con meno cultura più largo e invece la Schlein la pizzica sarebbe stato più giusto forse che ballasse la pizzica ci facesse vedere dei danzi dei pizzica la Schlein che rappresenta invece di più la cultura popolare italiana cioè le persone più normali diciamo tra virgolette quelle oneste quelle che fanno fatica a sopravvivere ad arrivare alla fine del mese di cui a Meloni dopo le elezioni si è già dimenticata in primis cancellando il reddito di cittadinanza poi abbiamo tante questioni la censura nella RAI i temi omofobi e anche nella sua maggioranza di governo sono sollevati da molti esponenti e ipocritamente altri temi religiosi tradizionalisti eccetera ma la musica non c'entra nulla naturalmente era solo per riflettere su questi temi dunque diciamo la Schlein invece si è scatenata sulle note di Paola Icchiara Laura Pausini Elodi tanti cantanti Mahmood che abbiamo ascoltato durante il corteo Schlein ha partecipato alla manifestazione con entusiasmo ballando e cantando insieme alla folla portando un messaggio di inclusività e uguaglianza il Pride come sappiamo è una celebrazione dei diritti e delle diversità un evento che unisce persone di tutte le provenienze e orientamenti per promuovere l'uguaglianza dunque curioso questo scambio di ruoli chissà se invece la Meloni avesse ballato un po' di quel pop che dunque musica popolare che amo perché per carità la scrivo anch'io quindi non sto facendo una critica alla musica pop ma naturalmente è un gioco per dire che una danza quella che rappresenta le persone oneste quelle stesse normali le persone che hanno una vita normale insomma quelle che la Meloni sembra aver dimenticato dopo le elezioni per tanti vari motivi e la Schlein forse la pizzica sarebbe stata dunque più adatta a lei come rappresentante di una politica inclusiva e vicina alla gente una danza che incarna lo spirito delle persone comuni quelle che lottano ogni giorno per i propri diritti e per un'Italia più giusta e solidale insomma mentre i politici ballano noi riflettiamo il G7 e il Pride rappresentano due mondi opposti se vogliamo leggerli in questo modo naturalmente anche ironico e da un punto di vista naturalmente che può essere sviscerato in tanti altri sottopunti di vista insomma una riflessione anche la nostra molto pop molto superficiale ma per dire che sembrano due mondi opposti il G7 e il Pride e poi non è detto che lo siano anzi auspichiamo che non lo siano più speriamo insomma che ci siano persone a rappresentare queste nazioni tra le più potenti del mondo persone che davvero abbiano un potere di inclusività e di uguaglianza un potere il potere di costruire la pace davvero il potere di gettare al vento le armi il potere di rigenerare questo mondo in cui invece stanno ritornando delle ideologie e dei valori tradizionali non proprio democratici dunque queste due esibizioni di Meloni e Schlein ci offrono in realtà solo un'occasione per riflettere su come potere inclusività e cultura popolare si intrecino nella nostra società forse un giorno vedremo i nostri leader scambiarsi i ruoli anche nelle loro politiche creando un equilibrio tra potere e inclusione e nel frattempo continuiamo ad osservare e commentare con un pizzico di ironia e di critica grazie per averci seguito in questo episodio di Radio Puginon Air mi aspetto i vostri commenti insomma volevo solo aprire un dibattito anche insieme a voi su questi temi partendo da questi due eventi a cui abbiamo assistito che alla fine sono anche molto simpatici e probabilmente non hanno nessuna intenzione programmata dietro il fatto che queste due leader così a distanza di poche ore si siano esibite in alcuni passi di danza danze diverse musiche diverse ragione ragioni diverse e probabilmente anche scopi diversi fatemi sapere cosa ne pensate voi al prossimo episodio di Radio Puginon Air